... Sono più che mai i giorni della preghiera. A Milano i copti ortodossi, gli egiziani rimasti cristiani dopo la conquista musulmana, pregano in attesa del 22 agosto, il loro ferragosto. Ogni giorno, nelle due settimane che precedono la festività estiva, si prega nel raccoglimento, nei pensieri. E' molta sofferenza, molta tristezza per tutto il popolo egiziano, sia muslimano sia non cristiani. E' una cosa, soprattutto questi attacchi verso l'esercito, verso la polizia. E non abbiamo mai visto sangue con questa quantità. In questi sguardi fissi, la mente corre verso quella parte d'Egitto martoriata dagli scontri alle famiglie rimaste in un paese nel caos. Non è la politica, cioè non è il problema della politica. La politica, adesso c'è, come sappiamo tutti, il militare che c'è in mano, perché deve gestire la cosa. Ma questa gente, una parte dei muslimani, ma sono terroriste. Però hanno, mettono, fanno quello che devono fare, ma sotto, diciamo, le religioni. Ma le religioni non hanno nessuna colpa di questa gente qua. Più di 700 morti, corpi ammassati nelle moschee, i militari autorizzati a sparare sulla folla, le chiese in fiamme. L'esercito ha comunque il controllo e c'è tutto il popolo dietro l'esercito. Quindi sta appoggiando il nostro esercito. Non è da solo. Quindi non abbiamo questa paura. C'è una questione di giorni e tutto tornerà normale. Difficile rimanere ottimisti, però, se si contano ieri 22 attacchi in 24 ore contro i monasteri, i luoghi di culto, come credere alle parole del premier Asem el-Bablawi, che ha assicurato che il suo governo proteggerà le chiese. Venerdì, da qualche mese, è sempre una giornata difficile per i copti d'Egitto, quando la rabbia dalle moschee dopo la preghiera si riversa sulle strade. Quando mescola la religione con la politica non va bene. La politica è una cosa, la religione è una cosa. Cosa centravano tutti questi attacchi a tutte le chiese? Oggi si parla di 40 a 52 chiese che sono state attaccate. Cosa centra essere cristiano con la politica? Deve essere due cose molto separate. Perché quando si mescolano queste due cose insieme, soffre la religione e soffre la politica. Saranno almeno 28 le marce convocate quest'oggi dall'Alleanza per la democrazia e contro il golpe al Cairo. Si mobilitano anche gli esponenti Tamarod, che hanno destituito Mohamed Morsi dalla carica di capo dello Stato e nell'appello televisivo ai propri militanti si chiede di difendere i luoghi sacri, le chiese copte. Grazie.